Il 2018, anno più caldo di sempre in Europa, a stabilirlo la banca dati del NOAA, il National Climatic Data Center, ovvero l'Agenzia Nazionale per gli Oceani e l'Atmosfera degli Stati Uniti. Un quadro particolarmente anomalo per l'Italia, secondo l'elaborazione delle stesse informazioni da parte di CULDIRETTI. Secondo la CULDIRETTI, le temperature sono risultate superiori di 1,53 gradi rispetto alla media storica. Temperature così, rileva a CULDIRETTI, non si registravano dal 1800. Settembre, precisa la Confederazione, il mese più difficile, con precipitazioni inferiori del 61% rispetto alla media storica. Ma a cosa ha dovuto il fenomeno? Si tratterebbe, secondo gli studiosi, di un processo che è accompagnato da una progressiva tropicalizzazione del clima, con il moltiplicarsi di eventi estremi che, secondo CULDIRETTI, hanno provocato solo quest'anno, fino ad ora, danni per 600 milioni di euro all'agricoltura.